Il Follonica-Cavorano sciupa una miriade di occasioni per il raddoppio, non chiude la partita e viene raggiunto al 93esimo minuto dagli avversari. La narrazione della gara del malservisi Martini tra Follonica-Cavorano e Mobiliari-Ponzacco potrebbe anche finire qui, ma vale la pena sottolineare per completezza di informazione come negli ospiti giocasse in l'Orbetellano Emiliano Fratini, il quale soffre in effetti insieme ai suoi compagni di squadra la partenza sprint dei rosso-bianco-blu. Palo di Macchi al quinto minuto e gol di Pino al tredicesimo su cross dalla destra di Suare, Follonica-Cavorano 1, Mobiliari-Ponzacco 0. Al 26esimo una delle tante opportunità che la squadra metallifera non riuscirà a concretizzare sul rinvio difettoso della difesa pisana, Kribek mette in movimento lo russo che conclude a lato. Al 32esimo una scena più unica che rara, con Dierna che rischia di testa di fare autorete, palla sulla traversa. Il secondo tempo opera e si muove sulla stessa falsariga del primo. Al 62esimo è Pino a fallire di destro un'occasione d'oro, in tribuna si grida già al gol, ma la sfera finisce al lato. Si infortuna intanto uno dei migliori del Follonica-Cavorano Suare che al 73esimo fa posto a Diana. Alla mezz'ora di Erna, già ammonito ad inizio ripresa, rimedia il secondo giallo e viene espulso dall'arbitro Mario Leone di Avezzano. Quindi si fanno male, sempre nelle fila dei Maremmani, lo russo prima e Pino poi, sostituiti rispettivamente dall'Epri all'81esimo e da Poli all'88esimo. Al 93esimo, nel terzo dei sei minuti di recupero concessi dal direttore di gara, Ombra esce a vuoto e Mattia Mencagli, che giusto domenica scorsa aveva festeggiato la sua duecentesima presenza in Serie D, timbra il cartellino. Finisce uno a uno tra la delusione dei tifosi del Follonica-Cavorano.